Bella raga, sono Shade, sono qui a partecipare anch'io al film Z, mi sono avvicinato alla musica circa una decina d'anni fa guardando 8 Mile, che era appunto un film sul rap ovviamente girato negli Stati Uniti a Detroit, quindi in un contesto totalmente diverso da questo, però a dici anni di distanza mi ritrovo a fare anch'io un film con la scena rap italiana. Quando iniziato io era un po' diverso da come adesso, diciamo che non c'era questa grande esposizione del rap in Italia, anzi erano pochi gruppi a farlo, tra l'altro molti dei gruppi che ascoltavo erano proprio qua di Roma dove siamo a girare il film, come per esempio Colle del Fomento, Corveleno. Adesso l'esposizione del rap è così grande, basti pensare che alcuni rapper riempiono dei palazzetti o addirittura l'Arena di Verona, quindi direi che le cose sono cambiate abbastanza. Comunque sono contentissimo di essere qui, secondo me è una gran ficata, penso che Cosimo alle mappie ha avuto un'idea geniale a raccimolare tutta la scena rap italiana e a metterla dentro un film, almeno la maggior parte dei rapper italiani. Presto fuori Z, nelle sale cinematografiche, non perdetevelo. Bra!